Figlia d'arte, si diploma all'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica. Fa il suo esordio cinematografico. Appena 14enne, al fianco della sorella, Lili Romanelli, in Totò Truffa 62 dove è una delle compagne di collegio della bella figlia di Totò, Estella Blen, bruna, mediterranea, dal fisico prosperoso. È stata uno dei volti più noti della commedia sexy all'italiana, dove interpretava spesso il ruolo della donna matura e sexy senza inibizioni, pur con varie incursioni in tutti i filoni del cinema di genere dal poliziottesco all'horror, all'attività cinematografica associato quella di cantante. Incidendo l'album Ricominciare accompagnando il cantante Rocky Roberts in una tournée del 1987.